Nei suoi più di duemila anni di storia, la Chiesa Cattolica ha avuto al suo interno varie fazioni, varie, oserei dire, sette, le quali spesso sono andate anche in conflitto fra loro. La stessa Chiesa Cattolica in realtà è parte della Chiesa Cristiana e per risolvere gli scontri che via via sorgevano, soprattutto all'inizio della storia della Chiesa, tra queste fazioni, si organizzavano dei concili. L'ultimo è stato il Concilio Vaticano II nel XX secolo, negli anni 60, ma appunto all'origine della Chiesa, nei primi secoli della storia della Chiesa, i concili erano molto frequenti. Sicuramente uno dei più importanti di questi concili è stato il Concilio di Nicea, il primo Concilio di Nicea, perché in realtà ce ne sono stati altri, voluto dall'imperatore Costantino e che stabilì alcuni dogmi, alcune regole molto importanti per la Chiesa, che ancora oggi resistono, e oggi voglio proprio parlare di questo Concilio di Nicea. Il primo Concilio di Nicea, come ho detto nell'intro, fu convocato dall'imperatore Costantino nel 325 d.C. e fu il primo concilio ecumenico di tutta la Chiesa. L'imperatore Costantino decise di convocare questo concilio per risolvere alcune liti, sorta fra varie fazioni della Chiesa, e soprattutto risolvere la questione dell'arianesimo, una di queste fazioni all'interno della Chiesa cristiana che stava prendendo piede e che si allontanava un po' dai dettami della Chiesa stessa. Il Consiglio stesso servì anche per stabilire alcuni dogmi di fede che ancora oggi noi consideriamo tali. Siccome Nicea era nell'odierna Turchia, moltissimi dei vescovi che vi parteciparono furono dalla parte orientale dell'impero, motivo per cui alcune decisioni che vennero prese non furono proprio accolte benissimo nella parte occidentale, che a questo Consiglio si vide privata di molti dei suoi rappresentanti. Nonostante questo le regole vennero accettate e tutto sommato il Consiglio risolse gran parte dei problemi che erano sorti in quegli anni. C'è anche da dire che sebbene Costantino avesse invitato tutti i 1800 vescovi che la Chiesa allora contava, 1000 ad Oriente, 800 ad Occidente, solo circa 250 vi presero parte effettivamente perché, insomma, come si può immaginare, era un viaggio per alcuni di questi vescovi, era un viaggio estremamente lungo, estremamente rischioso, non tutti ricevettero nemmeno la notizia in tempo e soprattutto alcuni proprio non ci vogliono andare in aperto contrasto con l'idea che fosse l'imperatore a discutere, a decidere qualcosa riguardante la fede. È vero che il primato papale ancora non era stato stabilito, comunque stabilito in maniera definitiva, però moltissimi vescovi non erano d'accordo sull'idea che fosse l'imperatore a gestire gli affari della Chiesa e quindi non vi parteciparono. Quindi, tralasciando alcuni aspetti politici riguardo all'organizzazione di questo concilio, che sono abbastanza marginali, volevo parlare brevemente dei risultati che questo concilio di Nicea, di questo primo concilio di Nicea portò a tutta la comunità cristiana nel mondo. Il primo fu quello di stabilire la Trinità di Cristo. Alcune credenze ignostiche che si stavano sviluppando soprattutto nella parte orientale dell'impero non accettavano la natura unetrina di Gesù Cristo. Questo concilio stabilì questo dogma di fede. Un altro dogma di fede molto importante stabilito in questo concilio fu quello della nascita virginale di Gesù, ovvero il fatto che Maria fosse vergine al momento della nascita. E quindi il concepimento divino di Gesù è il suo riconoscimento come effettivo figlio di Dio e non solo come semplice, tra virgolette, profeta. In più, questi due furono i due dogmi principali su cui il concilio si espresse, ma ci furono tante altre regole minori che vennero stabilite. Innanzitutto venne stabilita una data precisa per Pasqua, che era la prima domenica dopo il plenilunio successivo all'equinozia di primavera. E si stabilì anche che sarebbe stato il vescovo di Alessandria ad annunciare la data a tutti gli altri vescovi, in modo che poi essi lo potessero dire a tutte le loro diocesi. Furono stabilite norme per battezzare gli eretici, furono stabilite punizioni per gli eretici e furono anche stabilite quali dottrine, in alcuni casi, quali dottrine erano eretiche, ad esempio le dottrine del vescovo di Meles e di Licopoli. In più, proprio in questo concilio, si iniziò a parlare di autorità dei vescovi di Roma e di Alessandra. Roma per la parte occidentale e Alessandra per quella orientale. In questo modo i due vescovi iniziavano ad essere i capi delle rispettive chiese. Quindi il vescovo di Roma, che poi sarà il Papa e sarà a guida della chiesa cattolica occidentale nei secoli successivi e il vescovo di Alessandra, che ancora oggi nella parte ortodossa della chiesa cristiana, ha un primato d'onore. La differenza sta proprio lì. Se nella parte ortodossa ancora oggi il vescovo di Alessandra è la figura più importante, ma ha un primato solo d'onore, quindi non ha un effettivo potere, nella parte occidentale il vescovo di Roma, il Papa, è effettivamente il capo assoluto della chiesa cattolica e con un potere su tutti i vescovi a lui sottoposti. Dopodiché ci fu tutto un lungo elenco di regole minori che andarono a regolare appunto la vita degli ecclesiastici e delle comunità cristiane, non li sto a elencare qua, però furono regole che in realtà andarono avanti per secoli fino al concilio di Trento, poi del Cinquecento. È vero che ci furono altri concili, vennero cambiate alcune regole, vennero sistemate, vennero adattate ai tempi, però fondamentalmente l'impianto al netto del grande scismo d'Occidente dell'undicesimo secolo, l'impianto dato da questo primo concilio di Nicea, che fu anche il primo concilio ecumenico, andò avanti fino al concilio di Trento nel Cinquecento e poi in realtà alcune regole sono valide ancora oggi. L'ultimo grande tema che fu deciso in questo concilio fu anche la distinzione tra vangeli, o meglio, tra libri ispirati e apocrifi, in particolar modo i vangeli. In pratica si venne scelto, venne deciso un canone a cui la chiesa cristiana doveva tenersi, un canone di libri, e tutti i libri che parlavano di cristianità, che narravano le vicende della vita di Gesù, degli apostoli, dei discepoli, dei grandi profeti, che non appartenevano a questo canone, vennero dichiarati apocrifi. Andando così a delineare quello che ancora oggi, in fin dei conti, consideriamo la Bibbia cristiana divisa nell'artico, nel Nuovo Testamento, tutto il Vangelo, gli atti degli apostoli e tutti i testi considerati canonici ancora oggi dalla chiesa cattolica e in buona parte, se mi sbaglio, anche, ma spero di non commentare un errore, anche dalla chiesa ortodossa. Bene, spero che questo video sul primo concilio di Nicea vi sia interessato e vi abbia incuriosito, e noi ci vediamo una prossima volta. Grazie.